La stella in ascesa del tenente colonnello Jonathan Thompson, noto per la sua bellezza e presenza imponente, sembra aver perso un po' del suo splendore. Dopo essere diventato un vero e proprio oggetto del desiderio per molte donne durante i funerali della regina Elisabetta II, Thompson è stato spostato da Buckingham Palace a causa della sua eccessiva popolarità. L'inaspettata fama di Thompson è sbocciata durante i solenni funerali della regina, quando le telecamere catturarono la sua figura virile mentre seguiva il feretro reale. Le immagini fecero rapidamente il giro del web, facendogli guadagnare soprannomi come Otequerri, Scudiero Sexy. Il suo fascino non è passato inosservato neanche al fianco di Re Carlo, scatenando il fervore delle suddite inglesi. Tuttavia, sembra che questa crescente attenzione abbia avuto conseguenze negative. Durante un recente incontro pubblico di Re Carlo con il primo ministro britannico, l'assenza di Thompson non è passata inosservata, scatenando polemiche sui social media. Buckingham Palace ha deciso di spostare Thompson in una posizione meno esposta al pubblico, sebbene mantenga il suo ruolo di Scudiero Senior del re e della regina. Le motivazioni di questo cambiamento non sono ancora del tutto chiare. Alcune fonti non ufficiali suggeriscono che Thompson non abbia gradito l'attenzione ricevuta dopo i numerosi eventi di alto profilo in cui è apparso al fianco del re. Tuttavia, non è chiaro se sia stato Re Carlo a richiedere questo spostamento o se sia stata una decisione presa dietro richiesta del tenente colonnello Thompson. In ogni caso, sembra che il fascino di Thompson abbia causato più problemi che benefici, portando ad un'improvvisa e misteriosa svolta nella sua carriera a corte.